La tesi è questa, bisognerebbe cantarli sempre un salmo recitato, per forza di cose, ci si adatta anche nella liturgia, ma il salmo per definizione andrebbe cantato. E la ragione non è come dire esornativa, perché sta meglio, perché è esteticamente più bello, ma piuttosto intrinseca, cioè potremmo dire filologica, una ragione filologica, cioè per il fatto che tutti i salmi sono stati prima cantati, prima cantati, e poi a un certo momento li hanno scritti. Per cui il canto dovrebbe essere veramente la chiave di accesso al salmo. Certo, voi mi direte, ma noi non li cantiamo in lingua originale, come li cantavano in lingua originale? Non si sa niente, punto capo, detto brutalmente. Anche se, non so se Beppe conosce quel bel cd di Suzanne Ventura, non l'ho mai sentito. È una francese questa, un'ebrea francese che già diversi anni fa ha prodotto questo cd intitolato La Musique Rivelé, la musica Rivelata, pretendendo di ricavare dagli accenti presenti nel testo masoretico, delle regole di cantillazione. Non so quanto filologicamente possa stare, però è un cd meraviglioso, che se avete occasione di sentire, far sentire, merita tutta l'attenzione del mondo, perché non si cantano solo i salmi, ci sono anche altri testi. La vocazione di Mosè, per esempio, è cantata da un basso, che fa proprio venire a capponare la pelle dalla potenza proprio che ha la profondità che riesce a evocare. Ecco, io dico sempre i salmi sono tre cose insieme. Canto, poesia, preghiera. Tutte e tre cose che a scuola ci hanno insegnato a tenere tutte ben distinte, e invece dei salmi non sono affatto distinte, sono tutte profondamente connesse. Qui si potrebbe fare una riflessione anche profonda su il nesso, che rapporto c'è tra canto, poesia e preghiera, perché intuiamo, peraltro, non ci vuole poi tanto, intuiamo che sono tutti i tre fratelli gemelli, i siamesi addirittura, perché l'uno ruba l'altro, l'uno pesca nell'altro, proprio tranquillamente. E potremmo dire cos'è che ha comuna, non posso sviluppare più di tanto questo tema, ma tanto per un accenno ci sta tutto. Cos'hanno in comune canto, poesia e preghiera? Comune hanno che tutte e tre sono forme di risposta. E in questo senso qui sono forme molto originarie, che voglio dire che quando cantiamo, quando preghiamo, quando ascoltiamo poesia o addirittura facciamo poesia, beato chi la fa, io non sono di quelli, ecco che rispondiamo. Non è mai una par... Qualunque, per il vero poi, per essere ancora più pignoli a dire le cose fino in fondo, qualunque cosa noi facciamo al mondo, rispondiamo. perché partiamo da qualcosa che ci è dato, il nostro corpo, che non ci siamo dati, e in questo senso qui, appunto, la nostra esistenza, che è un dono, diciamo giustamente che è un dono, appunto, tutto quello che si fa, bene o male, è agganciato su questo dono e cerca di intratare qualche maniera. Sartre lo diceva alla sua maniera, siamo condannati ad essere liberi, lui lo diceva così, lo diciamo in una maniera un po' più, come dire, un pochino più anche sintonica alla prospettiva di fede, ma fondamentalmente è la stessa constatazione. Ecco, in questo senso avete qui uno schema che per il vero è un po' adattato all'incontro di oggi, tante cose le avete certamente già sentite da Mazzinghi. Magari vale la pena tenere d'occhio quella bella lettera di Atanasio, di Alessandro, non so se ne ha parlato Luca Mazzinghi, no? Atanasio, Sant'Atanasio, è il famoso campione del dogma cristologico, no? Cancelonese contro contro gli aghiani, la divinità di Gesù, eccetera, eccetera, ma io qui lo cito per un testo molto, diciamo, tra virgolette minore, ma in realtà molto importante, lettera di Sant'Atanasio a Marcellino, quarto secolo avanti Cristo, l'ha citato? è interessante perché Marcellino era un medico, era un medico che voleva però vivere bene la sua fede e chiedeva a Sant'Atanasio com'è che devo pregare i salmi, ora lui gli ha risposto una letterona, proprio come lettere lunga, ma non è che sia poi un testo lunghissimo, saranno 10-15 pagine, se vi interessa lo trovate tradotto questo testo a Bose da Lisa Kremarski, un fascicoletto proprio a parte, e Sant'Atanasio ha quest'idea, il Salterio è il libro degli affetti, adesso io lo dico in modo un po' più sintetico, cioè nel Salterio tu trovi rappresentato, fotografato, tutte le tue possibili situazioni, tutti i moti dell'anima, dice Sant'Atanasio, è uno specchio il Salterio, il Salterio ti fa un attack, una bella risonanza magnetica, e non contento di farti l'attack, ti dà anche la terapia, eh, in questo senso qui appunto il Salterio modifica la preghiera dei Salmi, ti trasforma, ti modifica, più radicalmente si deve dire il Salmo, ogni volta che noi preghiamo un Salmo, facciamo un'esperienza pasquale, perché il dinamismo del Salterio, soltanto il dinamismo che si vede nel passaggio dal lamento, dalla supplica alla rode, è proprio una trasformazione di questo tipo, eh, e appunto la lettura di questa grande raccolta di Salmi che si fa, si cerca di fare oggi, appunto, è una lettura che non soltanto tiene d'occhio il singolo Salmo come genere letterario, senza dubbio bisogna farlo sempre, o come componimento singolo, anche questo è cosa buona è giusta, è lecita, è doverosa, non c'è discussione, vado a dire l'approccio delle forme, per fare dei nomi classici, Gunkel, recentemente Westerman, l'approccio poetologico, Alonso Scherker, Ravasi, che appunto dicono ogni Salmo è un poema, è una piccola piccolo una piccola cosa a sé, no? C'è vero, fuori di dubbio, però ecco che insomma oggi come oggi si recupera una visione che peraltro era già dei padri del deserto, voi provate a pensare ai padri del deserto, cioè i primi monaci, i monaci prima di Benedetto per intenderci, ecco, tanto per dare un'idea, che vivevano un po' vivevano insieme, un po' ci avevano per conto suo, qualcuno faceva una vita mix, un po' si trovavano, un po' erano isolati, però tutti quanti avevano questa trassi, la recita completa del Salterio tutti i giorni, e lo sapevano, il Salterio greco per lo più, a memoria, lo sapevano, e dal primo all'ultimo loro si recitavano tutto il Salterio, cioè facevano un'alexio continua del Salmi, ve l'aveva parlato forse anche Luca, una cosa del genere, cioè, prego, oggi come oggi, sì, in modo diverso, certamente, è un pochino più scientifico, è un po' più critico, però si prende sul serio il fatto che i Salmi abbiano questa serie, da 1 a 150, se poi li leggiamo in greco dobbiamo dire a 151 perché c'è un Salmo in più, eh, in greco, che parla di Davide, e vabbè, l'hanno trovato in ebraico anche a Cumran, questo Salmo lì, tra l'altro, quindi è una testimonianza decisamente interessante, antica. Diciamo che noi siamo, andiamo in chiesa, no, l'avvento, l'avvento quaresima, il premosto ci fa dire, adesso c'è la messa, cominciamo con i Salmi del Vespo, delle Nodi, no, bene, e lì c'è una distribuzione di questi Salmi, che più o meno segue quello che ha fatto San Benedetto, ma di per sé è già un breviario un salterio, anzi, ad essere ancora più precisi, è un breviario di tanti breviari, attaccati insieme, eh, con un processo di composizione che in parte si riesce a ricostruire, in parte in modo molto ipotetico, in parte non sappiamo, eh, però quello che possiamo capire è che stanno così come stanno, non a casarci, non è l'antologia, come dire, della lingua italiana, del letteratore italiana, che in certo momento ci fa ritrovare delle pagine di diversi autori accostate, e poi ciascuno, ogni curatore dell'antologia fa a modo suo, e so, qui c'è qualcosina di più, eh, c'è molto di più, eh, c'è molto di più, e è particolarmente interessante appunto provare a leggere i salmi appunto in lezio continua, soprattutto perché diciamo che ha una grazia particolare una scelta del genere, ma proprio è il fatto che non ci si annoia, eh, non ci si annoia perché è un continuo movimento, è un continuo processo pasquale, proprio, poi potremmo dire proprio di morte e di risurrezione e tra morte e risurrezione, tra lamento e lode c'è anche evidentemente il posto per molte sfumature, pensiamo ai salmi sapienziali, eh, di cui in parte anche quello che abbiamo letto sia un rendimento di razza e quello lì senza dubbio, ma pieno pieno zeppo di riferimenti sapienziali, eh, o pensiamo per esempio proprio nel primo libro un posto veramente notevole che ce l'ha, il Salmo 37, i salmi 37, 38 e 39, ve l'ho messo qui in fondo, eh, è l'ultimissima cosa, se li leggete di fila, scoprite perché hanno un tema elaborato, portato avanti in modo molto interessante, ed è il tema del sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Salmo 37, per esempio, appunto, di per sé non è una preghiera, è proprio un classico Salmo di istruzione sapienziale, potremmo prendere questo Salmo, infilarlo da qualche parte nel libro dei Proverbi, preferibilmente nei primi nove capitoli, dove ci sono poemi così, e ci starebbe benissimo, eh, non c'è, non sentiamo qualcuno che prega, la voce di uno che prega, ma sentiamo la voce di qualcuno che istruisce il suo discepolo su come deve pregare, soprattutto in un momento di crisi. Qual è il momento di crisi? Il momento di crisi è quando uno vede la fortuna degli empi, cioè, c'è chi fa il bene e sta male, c'è chi fa male e sta benissimo, anzi, è fiorente, fiorisce che è un piacere, questo è un tema ricorrente nel Salterio, tornerà, io devo fare l'appuntamento con voi anche per il terzo libro, e il terzo libro proprio comincia con Salmo 73, che è proprio portatore della stessa problematica, la differenza è che mentre nel Salmo 37 è il maestro che dice al suo discepolo attento e quindi non sentiamo la voce di colui che sente il problema, sentiamo la voce di colui che cerca di illuminare, nel Salmo 73 invece aveva un ruolo di vedere una cosa molto bella, il Salmo 73 è proprio come dire la crisi indiretta, il bello della diretta come si può dire cioè chi sta pregando 73 e 77 è anche fatto così sono due Salmi favolosi dal punto di vista narrativo perché è un diario freschissimo di una crisi e della sua soluzione bene tornando al nostro primo libro 37 38 39 ecco vi invito proprio a farne provate a farne una lettura continua con calma e scoprirete che proprio su questo tema del silenzio questi Salmi sviluppano una una notevole un notevole cammino di fede appunto quando si parte da un'istruzione ricevuto da un altro è proprio la chiave del Salmo 37 il mio modo di vedere sta al versetto 7 sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui non irritarti per chi ha successo per l'uomo che trama insidie desisti dall'ira deponi lo svegno non irritarti non ne verrebbe che male perché i malvagi saranno eliminati ma chi spera nel Signore erediterà la terra la cosa interessante è proprio questo invito al silenzio perché perché sembra proprio che la preghiera di supplica che prevale nel primo libro del Salterio e anche nel secondo e diciamo percentualmente prevale in tutto Salterio non so se l'ha spiegato Luca Mazzinghi l'anomalia di questo titolo Tehillim Tehillim si traduce appunto salmi ma sarebbe la traduzione letterale sarebbe lodi ma Tehillim è una parola sgrammaticata perché lode in ebraico si dice Tehillah è femminile e al plurale femminile fa Tehillot Tehillim è una parola femminile con un plurale maschile allora diciamo insomma chi ha messo il titolo non sapeva tanto bene l'ebraico bisognerebbe dargli un voto basso e no la sgrammaticatura è sfiziosa deve essere chiaramente un segnale intenzionale cioè perché appunto oltretutto facciamo conto che il Santerio sia un barattolo con dentro 150 pezzi facciamo il conto l'odino non è la maggioranza di quei pezzi la maggioranza sono suppliche individuali e allora cosa significa questa discrasia probabilmente il senso è quello un po' spiegato poi al punto 2 di questo schema il senso è il fatto che con il titolo non si vuole indicare un genere di preghiera particolare che appunto sarebbe contrapposto all'invocazione alla supplica a queste cose qua ma si vuole piuttosto come dire dare un titolo più complessivo generale un metalinguaggio per usare un termine un po' intellettualmente nobile cioè un titolo che abbraccia tutte le preghiere possibili immaginabili contenute nel salterio riconducendole al loro cespite fondamentale ovvero al loro vettore alla loro destinazione fondamentale e allora tant'è vero che qualcuno non traduce lodi ma traduce per esempio un traduttore francese molto originale però di quelli che la sanno anche molto lunga traduce gloire glorie perché diciamola con una battuta che è alla portata di tutti cosa diciamo che tutti i salvi finiscono in gloria quello che è una battuta così popolare e perfino banale ha la sua verità ha una sua verità profondissima perché anche la supplica la più desolata e la più oscura nel terzo libro abbiamo modo di vedere per esempio salmo 88 il penultimo che è associato all'89 appunto un salmo di quello che si legge a compieta di venerdì signore dio della mia salvezza a te grido giorno e notte e giunga a te il mio grido eccetera eccetera ma in realtà poi si continua a invocare ma non arriva nessuna risposta allora si può parlare di una come dire una destinazione di lode della preghiera di supplica non solo si può ma si deve cioè per noi cioè noi abbiamo molto schematizzato tutto e messo compartimenti spagni un po' dappertutto nella vita culturale nella vita spirituale e via dicendo ma appunto per per il salterio non è così la preghiera di supplica anche la più desolata in realtà è una scommessa sulla potenza di dio e soprattutto sulla capacità di ascolto da parte di dio alberto mello monaco di pose che vive gerusalemme ormai da una vita proprio letteralmente ha scritto un libricino intitolato mondo di grazia e ha dedicato un capitolo proprio un libricino dedicato ai salmi scritto diverse cose sui salmi secondo me il libro più accessibile è quello lì che ha Beppe in mano che vi avrà già mostrato adesso è tradotto col titolo un libro i salmi un libro per pregare il titolo originario era l'arpa a dieci corde poi l'han cambiato perché non vendeva era un titolo un po' troppo sofisticato l'ha lasciato perdere sicché ecco se leggete quel libro lì secondo me già siete molto molto preparati perché è un libro che ha saputo in qualche maniera proprio trasportare la tradizionale introduzione ai salmi in questa nuova prospettiva di Salterio come libro proprio e ve lo fa capire bene alla fine anche fa qualche esemplificazione dicevo il silenzio il silenzio sembra essere stato proprio un momento perfettamente costitutivo proprio una parte interrante della premiera di supplica l'orante aveva proprio tutto quanto come dire un suo per virgolette protocollo che però poi veniva gestito in maniera piuttosto libera infatti i salmi hanno delle analogie fra di loro ma poi ciascuno è originale obiettivamente in mezzo a questo facciamo un esempio sempre dal primo libro perché i salmi 37 38 e 39 lascio alla vostra lettura provate a leggerlo proprio tenendo d'occhio la prospettiva del silenzio e invece guardiamoci per capirci un po' il sulla questione del silenzio durante la preghiera di supplica proviamo per esempio a vedere il salmo 22 se ne occuperà il nostro amico Luigi Nazon per cui non gli importo via niente ma vi faccio osservare come il famoso salmo 22 no Dio mio perché mi ha abbandonato a metà a metà ci presenta nella nuova traduzione cei perché la vecchia traduzione cei seguiva i 70 invece qui hanno seguito più giustamente il testo ebraico andiamo al versetto 22 insomma Lorante continua a pregare signore salvami non stare lontano eccetera eccetera ecco guardate il versetto 22 salvami dalle fauci delle leone e dalle colle dei bufali punto e poi cosa c'è? cosa leggete? ecco andava praticamente era meglio staccarlo e metterlo in mezzo o anche attaccarlo al versetto 23 eh tu mi hai risposto di colpo ecco di così c'è tutto lo spazio per poter come dire immaginare una bella sosta silenziosa dell'orante l'orante prega 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 poi in un certo momento cosa fa? sta in silenzio ad aspettare la risposta del Signore abbiamo una testimonianza narrativa cioè un racconto che le cose andassero veramente così ce l'abbiamo e dove? la preghiera di Anna al Tempio al Santuario di Silo bellissima situazione giustamente capitolo 1 e 2 di quella del primo libro di Samuele in quel racconto lì sono l'unica testimonianza biblica un po' diffusa di come funzionava la preghiera tellorante allora sappiamo la storia di Anna che era sterile derisa dalla sua dall'altra moglie di questo Elkanah quindi ogni festa di famiglia questa Peninnah Peninnah dall'altra moglie di Elkanah che aveva un sacco di figli la possiamo immaginare distribuire cibo a tutta sta marmaglia di marmocchi e Anna da sola senza figli che magari veniva derisa da sta qui in un certo momento le passava la voglia di mangiare si metteva a piangere allora saltava suo marito diceva Anna perché piangi perché triste il tuo volto forse che non sono io per te più di dieci figli non vedi che ti do anche una parte speciale no e qui sarebbe da analizzare proprio con con attenzione un testo così e allora Anna vabbè si metteva lì asciugava un po' di lacrime buttava giù qualche boccone poi però in un certo momento non ne può più si alza e va nel santuario davanti al Signore e prega e come prega interessantissimo questo racconto perché anzitutto piange a dirotto piange a dirotto e poi quando riesce appena appena a articolare qualche parolina ecco che allora che cosa dice è molto interessante il racconto Anna si alzò dopo aver mangiato e bevuto a Silio in quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del Tempio del Signore notate che la preghiera dei salvi originariamente era orale era a voce alta e davanti a un uomo di Dio davanti a un sacerdote che poteva intervenire in questa preghiera come appunto avviene adesso nel caso di Anna ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore piangendo dirottamente quindi proprio prima preghiera la supplica è proprio il dono delle lacrime è quello che nella spiritualità si chiama così quando uno non ne può più successivamente Anna dirà sto effondendo ma lo vediamo dopo sto effondendo la mia anima davanti poi fece questo voto Signore degli eserciti se vorrai considerare la miseria della tua schiava ricordarti di me se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio io lo ferro al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo è il voto di nazireato di consacrazione appunto al Signore per cui non ci si taglia nemmeno i capelli e la cosa molto bella di questa preghiera di Anna è che l'oggetto della domanda ciò che tu mi dai Signore io te lo restituisco in anticipo è di una forza spirituale incredibile quello che Paolo poi a capitolo 12 lettere romani dirà offrite i vostri corpi come sacrificio appunto gradito a Dio logikos razionale si traduce ma in realtà vuol dire proprio secondo secondo la parola secondo il logos fatto sta che mentre prolungava la preghiera davanti al Signore e gli stava osservando la sua bocca Anna pregava in cuor suo si muovevano solo le labbra ma la voce non si udiva caso anomalo perché di solito la voce delorante è sempre bella spiegata invece lì proprio poverina non ce la fa dopodiché Eli la ritenne ubriaca le disse Eli fino a quando rimarrai ubriaca smaltisci il tuo vino Anna rispose Eli evidentemente tutti gli anni vede questa famiglia che viene su al tempio a fare la festa a fare l'offerta sa benissimo che cosa succede in quella famiglia e ha capito che Anna dal dispiacere insomma ha alzato troppo il gomito secondo lui e Anna invece repica e dice no mio signore io sono una donna affranta dall'animo amareggiato alla lettera non ho bevuto né vino né altre bevande né briante ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al signore sfogare il mio cuore non è una buona traduzione perché il verbo ebraico è Shafak e Shafak vuol dire semplicemente versare adesso io qui ho mezzo bicchiere d'acqua se lo inclino verso tutto per terra questo è Shafak e lo si usa per le offerte liquide in tutto il Medio Oriente antico cioè si va al tempio si possono offrire che ne so io piccoli animali o anche un vitello ma si può offrire anche acqua olio latte vino naturalmente l'offerta liquida è proprio come dire buttata via davanti al signore si fa così si versa ed è proprio gratis dato allora qui così però sono le lacrime sono la sofferenza non è sfogare il mio cuore io posso sfogarvi con Beppe se è mio amico e siamo in confidenza qui così è proprio un'azione riservata a Dio solo Dio sa contare le lacrime della mia sofferenza dirà un altro salmo le lacrime del mio otre tu le hai contate che allora ha tutto un altro valore evidentemente la supplica la primiera di supplica è questo cioè che cos'hai da offrire al signore niente meno di niente perché offro il fallimento che in questo momento mi sta devastando nella consapevolezza che una scatola stare come scatole di vetro davanti al signore è la preghiera più pure che ci possa essere questo è il senso della preghiera di supplica dopodiché appunto dice non considerare la tua schiava una donna perversa poiché finora mi ha fatto parlare l'eccesso del mio dolore della mia angoscia allora Eli ha capito non sta neanche a chiedere cosa è successo lo sa lo sa già e cosa risponde allora Eli le rispose va in pace e il Dio di Israele ti conceda quello che hai chiesto ancora qui traduzione interfetta non ti conceda no non è un augurio un auspicio è una promessa ti concederà siccome tu sei venuta qui consapevole della tua miseria della tua frustrazione eccetera e ti sei effusa davanti al Signore questo è il verbo che bisogna usare effondere non sfogare effusione no proprio come fosse un sacrificio cruento non è nessun sacrificio cruente perfino più doloroso ma è un sacrificio spirituale fino in fondo cioè perché di volta in volta si dice ho effuso il mio cuore la mia anima il mio sospiro sempre la stessa cosa evidentemente in buona sostanza va in pace e il Dio di Israele ti concederà è una promessa cioè l'uomo di Dio si deve compromettere di fronte al povero che grida l'uomo di Dio è chiamato a emanare un oracolo o a richiamare semplicemente la Torah quel che dice la Torah fa così fa cosà oppure a dare veramente un oracolo di salvezza di conforto ma ma quello che deve essere forte è proprio il tratto di promessa che esce mica per niente poi e la replicò possa la tua serba trovare grazie ai suoi occhi poi la donna se ne andò per la sua via mangiò e il suo volto non fu più come prima cos'è successo è successo che sta qui è stata in silenzio davanti al Signore e si è trasformata la situazione si è trasformata perché da quel silenzio lì ha avuto anche oltretutto una parola di risposta da Dio la parola di risposta da Dio può passare attraverso canali molto diversi può essere anche il canale dello stesso lo vedremo nel sanno 77 non c'è nessun sacerdote o profeta che interviene ma è l'orante che lavorando la sua supplica il suo dolore è cresce matura e fa un salto di qualità analogamente sempre nel primo libro un bellissimo salmo che caratterizza molto bene questo primo libro secondo me il salmo 13 molto breve ma molto molto intenso proprio fa vedere bene questa dinamica un salmo attribuito a Davide come la maggioranza di tutti i salmi del primo libro tranne un paio i due iniziali e poi altri due fino a quando signore continuerai a dimenticarmi fino a quando mi nasconderai il tuo volto fino a quando nell'anima mia addenserò pensieri tristezza nel mio cuore tutto il giorno fino a quando su di me provarà il mio nemico notate queste quattro domande incalzanti e anche un po' cattive nel senso che l'orante qui diciamo che è risentito contro il signore perché sta accusando il signore di tirar troppo la corda fino a quando fino a quando fino a quando la lettera sarebbe fino a che punto fino a che punto e qui abbiamo veramente quella che i tedeschi chiamerebbero la clag cioè un'invocazione una supplica che è anche un'accusa però perché Dio dovrebbe avere cura dei suoi fedeli c'è di mezzo l'alleanza no? c'è una situazione perfettamente ordinaria e qui così di mezzo il problema probabilmente potrebbe essere si parla del il nemico poi si ancora il mio nemico versetto 5 io qui così intenderei nemico con la N maiuscola cioè chi è il nemico N maiuscola? facile domanda facile facile è la morte nell'antichità la morte è una divinità certo in Israele è ribassata di rango ma c'è sempre questo fondo di di eredità mitologica lo stesso San Paolo trattiene questo fondo l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte prima Corinti 15 anche lì scriviamo lo maiuscolo perché così abbiamo un po' l'idea nemico è la morte lo sceolo questo mostro mangia tutto il famoso squalo di Spielberg avete visto lo squalo di Spielberg un vecchio film del 75 che ha dato dottor Ghietà questo grande regista e che poi ha avuto delle repliche perché lo squalo 1, 2, 3, 4 però le repliche non sono sue come si intitolava veramente questo questo film il titolo squalo è una traduzione libera ma originariamente da buon ebreo Spielberg conosce la sua tradizione e il titolo era Jones Fauci Fauci è lo sceolo è la morte dei salmi dell'antico testamento di tutto il medio oriente antico la morte rappresentata proprio come il classico mostro mangia tutto onnivoro divora tutti quanti c'ha la bocca sempre aperta mai sazio e nessuno scappa da lui punto a capo è Spielberg che conosce bene evidentemente la sua tradizione aveva intitolato quel film lì Jones Fauci e qui così nemico credo che sarebbe da interpretare un po' in questi termini vabbè comunque anche se lo interpretate nel senso realistico nemico cioè quello che vuol farmi la forca non è molto diverso perché il mio nemico mi vuole morto per cui siamo sempre in quell'ambito di un rischio mortale bene guardate come è incalzante questa supplica e come è risentita guardate come invece al versetto 4 cambia il clima di questo salmo perché dalla supplica interrogativa polemica risentita ecco che invece si passa ecco che subentra una preghiera di domanda molto accorata guarda rispondimi signore mio dio conserva la luce ai miei occhi è un bel salto di qualità è un bel salto di qualità perché non mi sorprenda il suono della morte eccetera versetto 6 ma io nella tua fedeltà ho confidato questo ma è interessante molto importante l'hanno giustamente introdotto nella nuova traduzione cei chi ha la vecchia si accorgerà che non c'è questo ma ma c'è proprio nel testo ed è giusto che l'abbiano rispettato perché è una svolta è una svolta che in effetti introduce una situazione fiduciale decisamente nuova nel clima complessivo del salmo che fino a quel punto era piuttosto non era così confidente era molto drammatico molto urgente ma voi sentite che al versetto 6 ma io nella tua fedeltà ho confidato esulterà il mio cuore nella tua salvezza canterò il signore che mi ha beneficato c'è veramente una svolta è cambiato qualcosa c'è proprio un passaggio c'è una Pasqua eh Sant'Agostino definiva Pasqua transitus per passionem fondendo due tradizioni prima di lui con il suo solito colpetto disegno Pasqua id est transitus per passionem attraverso la passione hai fatto un passaggio hai fatto una svolta hai guadagnato appunto una situazione nuova che addirittura schiude la prospettiva della lode esulterà il mio cuore nella tua salvezza canterò il signore che mi ha beneficato ecco il primo libro del salterio è proprio un po' caratterizzato da questa dinamica cioè dalla dinamica di un passaggio dalla supplica alla lode e poi viceversa dalla lode indietro alla supplica eh valgono un po' tutti e due i movimenti eh del primo libro anche che prevalga la preghiera appunto particolare che vi supplica ma fondamentalmente sono siamo nella in questo tipo di di logica eh guardate il punto sei nello schema che vi sarà un po' ostico complicato ma poi vedrete che non è così complicato come come sembra fondamentalmente in termini un pochino più complessi vi dice quello che vi ho appena detto cioè ehm se si studia un po' la composizione di questo primo libro diciamo che stiamo sulla colonna di destra abbiamo fondamentalmente quattro raccolte di salmi si possono individuare così insomma un po' indicativamente almeno da 3 a 14 un primo blocco da 15 a 24 un secondo blocco da 25 a 34 e poi da 35 a 41 ora ehm il primo di questi blocchi da 3 a 14 ci spostiamo sulla colonna di sinistra si presenta proprio con i tratti che poi si possono ritrovare un pochino più complessivi per tutta quanta l'estensione del primo libro vale a dire un po' la prima raccolta è un po' una miniatura di tutto quello che viene successivamente nel libro nel suo complesso non siete obbligati a stare dietro a queste cose che sono anche molto tecniche se vogliamo ma che hanno un senso vedete allora diamo un po' un'occhiata a questa prima raccolta è una prima raccolta che anche qui obbedisce ad una logica di progressione ehm per esempio una logica bella con cui attraversare l'intero salterio è pregare ponendo attenzione appunto agli avverbi di tempo ehm si si comincia col salmo uno dicendo che il giusto nella legge del signore trova la sua gioia la sua legge medita giorno e notte ehm bene giorno e notte cosa vuol dire nella bibbia vuol dire sempre è un modo appunto è un merismo come si usa dire le 24 ore hanno un pezzo di luce e un pezzo di tenebra il pezzo di luce si chiama giorno e il pezzo di tenebra si chiama notte giorno e notte vuol dire appunto sempre eh evidentemente anche col suo carico un bel carico di simbolismo diciamo che di giorno ci vedo e mi sento più sicuro di notte non ci vedo l'accidente eh insomma non è insomma resta ma ne lo visco un domine qui a vespera ascit eh resta con noi signore perché si fa sera il giorno ormai declina la notte fa paura a tutti eh più uno magari va avanti negli anni o non sta bene eccetera eccetera e più momento della notte è un momento angoscioso quindi la sua legge medita giorno e notte vuol dire nei momenti luminosi nei momenti oscuri nel bene come nel male se vogliamo no? allora è interessante il salmo 2 il tratto temporale più interessante del salmo 2 non è indicato con giorno o con notte ma è indicato piuttosto con questo avverbio versetto 7 il signore mi ha detto tu sei mio figlio oggi io ti ho generato eh ovvero quell'oggi lì è proprio piace molto San Luca eh l'oggi di Dio evidentemente dal senso della presenza provate ad andare avanti a leggervi il salmo 3 e 4 e troverete rispettivamente preghiera del mattino e preghiera della sera la stessa Bibbia di Gerusalemme nella nuova edizione vi segnala questa cosa salmo 3 in vocazione mattutina del giusto perseguitato eh infatti eh si dice io mi corico versetto 6 mi addormento mi risveglio il signore mi sostiene è la preghiera del mattino eh decisamente tra tutto fate caso è una preghiera che e viene messa in bocca a Davide quando fuggiva davanti al figlio al salone non so se Marzini ne ha parlato di queste tredici tredici salmi che hanno una piccola superscrizione una piccola didascalia che oltre a dire di Davide ti dice quando Davide ha avuto questo episodio della sua vita quando ha peccato con Bezzabea a causa di Uria vittita eh salmo 51 piuttosto che quando ha fatto il matto davanti a Chitofel per salvarsi la pelle eccetera eccetera tutti episodi della vita di Davide che presentano un Davide non tanto vincente ma piuttosto un Davide sempre molto bastonato eh un Davide come noi come noi e magari anche un po' peggio di noi eh nella sua umanità più più diretta più elementare più ruvida eh e più realistica o anche nella sua sofferenza più più acuta il figlio Salone vuole farlo fuori per portare di Aregno non è stata una bella esperienza eh vedersi il figlio che ti viene addosso con la spada eh chiaramente sono tutte eh come dire teologizzazioni molto importanti per fare del salterio una preghiera regale comunque fateci caso Salmo 3 poi presenta la situazione del del giusto che dice molti contro di me insorgono molti dicono di me guardate il salmo 4 eh anche qui la stessa situazione eh molti dicono versetto 7 sono accostati proprio anche per questo il salterio è un libro agonistico drammatico è una lotta è una lotta spirituale tra il giusto e gli empi uno contro molti questo è già la situazione del salmo uno e del salmo due eh la scelta che propone il salterio è una scelta di minoranza eh senza alcun dubbio è una scelta difficile perché evidentemente la maggioranza può essere schiacciante allora è molto bello che i primi due salmi per esempio elaborino proprio questo questa presenza plurale che insidia e che insidia in qualche maniera di giorno e di notte con i fatti o anche con le parole eh molti dicono versetto 7 chi ci farà vedere bene se da noi signore è fuggita la luce del tuo volto il secondo stico si può tradurre in modi molto diversi questa qui è una soluzione possibile eh senza dubbio però potete vedere appunto che il salmo 4 infatti non a caso è uno dei salmi di compieta si risolve benissimo hai messo più gioia nel mio cuore di quanti le diano a loro grano vino in abbondanza in pace mi corri che subito mi addormento tu solo signore fiducioso mi fai riposare eh ecco che allora interessante no quel giorno e notte del salmo 1 quella temporalità nostra che è fatta di tanti aspetti di tante sfaccettature ecco che viene declinata proprio di volta in volta nella preghiera poi di nuovo salmo 5 al mattino ascolta la mia voce eh al mattino potreste provare proprio a leggervi con pazienza tutti i 150 salmi non dovete farlo di fila cioè ma così con calma cucendoli proprio sul tempo a mattino a sera di notte a mezzogiorno sempre eh oggi domani eccetera eccetera eh diventa davvero un tipo di esperienza di preghiera molto molto vivace e tutt'altro che come dire che peregrina il grande vantaggio di una lettura di una lettura continua del salterio è questo qua aggiungo una cosetta vedete che eh il primo blocco i primi salmi dal 3 al 14 hanno proprio questa come dire questa andatura eh al centro ci stanno due salmi di lode un inno rispettivamente e poi un rendimento di grazie e ai lati invece ci sta un pacchettino di salmi di supplica eh proprio a dire che in questo caso evidentemente in modo quantitativo prevale la supplica questo vale per i primi del ibele salterio le cose si mantengono nel terzo ma poi il quarto e quinto si cambia completamente la faccia lì prevale la lode eh allora è interessante qual è il primo salmo di lode di tutto il salterio l'ultima cosa che dico poi finiamo è il salmo 8 il famoso salmo 8 che sappiamo credo più o meno tutti quanti a memoria no che cose d'uomo signore perché te ne ricordi un figlio d'uomo eccetera eccetera è molto interessante che cosa beh insomma i salmi sono preghiera regale senza alcun dubbio eh lo si vede bene nel primo libro con il salmo 2 ve l'ha spiegato Mazzinghi senza dubbio ma poi lo si vede bene con i salmi 20 e 21 che sono due salmi di preghiera per il re il re salmo 20 che deve andare in guerra allora si frega che tutto quanto vada bene salmo 21 il re è andato in guerra ha dato tutto bene torna e quindi si è tutti contenti no eh lo stesso salmo 41 di per sé non è proprio un salmo regale ma siccome si dice beato l'uomo che ha cura del debole nel giorno della sventura il Signore lo libera chi ha cura del debole è in primo luogo la figura regale quindi molto probabilmente l'hanno messo di così a chiudere primo libro con questa intenzione bene il salmo 8 è una preghiera regale però con dei tratti specialissimi perché chi è il re di così non è il messia uno di solito il re è uno a dispetto di molti sopra molti in altissimo se ci sono due re sono guai no ma il salmo 8 dice che i re sono tutti gli enosh cioè tutti gli uomini e le donne di questo mondo ma anche i portatori d'acqua anche gli schiavetti anche quelli che tagliano la legna sono re oh yes sono re siamo stati abituati cresciuti a questa idea no che l'uomo è re dell'universo dovremmo completamente distruggere quest'idea per riscoprirla vale a dire non è affatto ovvio nel Medio Oriente antico un'antropologia universale cioè un modello umano che vale per tutti nel segno della regalità l'uomo è uno schiavetto per i mobilonesi creato dagli dèi quando litigavano e in un certo momento siccome c'erano degli dèi di serie B che dovevano servire agli dèi di serie A in un certo momento è arrivato la divinità più intelligente e dicono ma no ma perché stiamo a litigare tra di noi facciamoci qualcuno che ci serve bello basso e noi viviamo bene allora così è creato l'uomo non è una visione molto ottimistica obiettivamente per cui la Bibbia che a un certo momento gli imbalza l'idea di dire no no tutti quanti tutti tutti uomini donne piccoli tutti tutti il destino regale è una roba che poi si è presa lo sfottò di Giobbe provate a leggere Salmo 8 e poi Giobbe 7 e poi vedrete che Giobbe 7 è rivolta come un guanto al Salmo 8 e significativamente anche proprio in una posizione anche letteralmente analoga perché il Salmo 8 sarebbe in realtà il settimo Salmo del Santerio perché i Salmi 1 e 2 sono un unico Salmo di fatto anche se sono distinti non so se questo l'ha spiegato Mazzini penso che l'avrà accennato perlomeno e allora il Salmo 8 sarebbe il settimo Salmo esattamente come al settimo capitolo Giobbe prende di mira il Salmo 8 e lo fa a brandelli letteralmente ma di questo potremmo parlare un'altra volta Salmo 9 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.